3, 2, 1, grazie per la testa. Questa è la parte più bella della signora. Salvo, questa è la parte più bella della signora. Grazie. Una notizia sensazionale che arriva dal mondo scientifico a sconvolto il nostro vivere quotidiano. Ride e fa, e taluni ipotizzano che il riso possa persino fargli una gripe. Pertanto si ritiene che alcune canzoni dell'italico patrimonio musicale entrino a pieno titolo tra gli strumenti terapeutici. E allora, certo, motore, azione, si ride. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Signore e signori, in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli, Sassi Cassa presenta Francesco Pachini. Sassi Cassa presenta Francesco Pachini